Ma dirselo è dura, sono un bel tempo, il mio tempo con te. Come famo a lavorare con questo? Non si regge più in piedi, è pieno di droga! Vicino al sol! In un'intervista Dario Franceschini apre al dialogo con il PDL sui futuri equilibri istituzionali nel partito, dunque si apre il dibattito. E permettetemi di esprimere la mia sorpresa.